Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Francesco Cacciola, ha annunciato che il Comune ha trasferito degli atti amministrativi alla Procura della Repubblica di Caltagirone. Una dichiarazione che è stata dettagliata dallo stesso Presidente del Consiglio che ha messo a conoscenza i consiglieri comunali corredando anche la sua comunicazione con atti ufficiali, gli stessi che sono stati inviati alla Procura della Repubblica riguardante l'attività dell'Ufficio Tecnico Comunale. Presunte irregolarità, un carteggio abbastanza serrato intenso fra il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'architetto Salvatore Campisi, e il funzionario, l'architetto Salvatore Mazzone. Tutta una serie di rilievi che sono finiti sul tavolo del Presidente del Consiglio, sono finiti sul tavolo del Sindaco e sono finiti anche sul tavolo del Segretario Comunale. Evidentemente per essere stati trasferiti, inviati alla Procura della Repubblica, non sta a me certamente deciderlo, ma sicuramente ci saranno dei rilievi penali non trascurabili e non indifferenti. Da qui ovviamente sono venute fuori anche le dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici, l'architetto Pippo Locastro. Come vi abbiamo raccontato, si è dimesso una settimana fa a 200 motivi personali. Evidentemente poi alla fine i motivi tanto personali non sono, anche perché siamo a conoscenza di una infuocata riunione di giunta del 13 maggio a cui è anche partecipato il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Cacciola. Una riunione in cui sarebbe stato lanciato un atto d'accusa nei confronti della gestione dell'assessore ai lavori pubblici, ormai ex assessore Pippo Locastro, che ovviamente è a conoscenza di questo carteggio e di questa comunicazione fra i vari funzionari all'interno dell'ufficio tecnico. Lo scenario certamente non è di quelli più trasparenti, c'è da chiarire ovviamente la posizione dei protagonisti di questa vicenda. Ma, come dicevamo, questa vicenda è approdata in Consiglio Comunale con il Presidente Francesco Cacciola che ha messo a disposizione dei consiglieri anche gli atti che poi alla fine sono gli stessi che sono stati trasferiti alla Procura della Repubblica di Caltagirone. Durante la seduta del Consiglio Comunale è stata anche decisa la data del prossimo Consiglio, convocato in via assolutamente straordinaria, il 1 giugno alle ore 16. In quella sede sono stati anche invitati i protagonisti di questa vicenda ed in particolare l'architetto Salvatore Campisi, che è il dirigente dell'ufficio tecnico, subentrato all'architetto Ennio Cristauto, che invece è stato trasferito all'area 1. La vicenda dell'ufficio tecnico, che è saltata soprattutto e balzata agli onori della cronica proprio per questa comunicazione ufficiale da parte del Presidente del Consiglio. Ci sono tante motivazioni che ovviamente tanti spunti anche che potrebbero avere una rilevanza penale, ma questi saranno i magistrati a deciderlo. Quello che la politica ha deciso di fare è quello di affrontare la questione in Consiglio Comunale, come abbiamo detto, e quindi ascoltare anche la voce dei diretti interessati. Abbiamo anche avuto modo di ascoltare il parere di qualche consigliere comunale, ovviamente abbiamo anche esaminato il momento politico attuale con le dimissioni dell'assessore Locastro e con l'azzeramento dell'aggiunta avviata proprio dal Sindaco di Scordia, Franco Tambone. È chiaro che il Sindaco in questo momento è in grosse difficoltà perché è chiaro che non si tratta di un fatto marginale all'interno dell'amministrazione, ma evidentemente se dovessero essere confermate certe azioni all'interno dell'ufficio tecnico è chiaro che ovviamente potrebbero aprirsi scenari molto diversi e quindi anche lo stesso azzeramento dell'aggiunta potrebbe anche non bastare. Abbiamo ascoltato il parere e quindi il pensiero dei due consiglieri di opposizione che sono Delfo Aristodemo e Gabriele Lamagna ed infine quello del consigliere di maggioranza del PD, Carmelo Bellò, con cui abbiamo anche un po' parlato di quelli che potrebbero essere i futuri scenari all'interno della nuova amministrazione comunale. È chiaro che nell'ufficio tecnico chi è chiamato ad avere il quadro della situazione di questo ufficio non ce l'ha. In primis ovviamente la maggioranza nella qualità dell'assessore a ramo che è venuto meno per motivi personali che a mio avviso non sono tali perché a seguito di quello che abbiamo letto è chiaro che non si tratti di motivi personali ma di motivi che l'hanno spinto forse alle dimissioni perché l'ufficio tecnico sta attraversando forse la fase almeno che io ricordi la fase più grave e pesante negli ultimi anni. La vicenda è sì per l'esternalizzazione dell'incarico di direzione dei lavori, però il punto fondamentale è uno ed è quello politico. Sono state mosse delle affermazioni che se lette e spero quando prima rese pubbliche, perché di questo parliamo di atti pubblici, queste affermazioni vanno a sfociare in possibili atti illegali o illegittimi. Lì la magistratura si ne occuperà ma intanto la parte politica cosa deve fare? Infatti la politica a prescindere, per dirla alla scordiota, per non sapere leggere e scrivere mette le mani avanti e cerca di mettere ordine in questo ufficio. Il sindaco in un primo momento facendo una trasmissione di atti alla procura è chiaro che sembrava avere le idee chiare però manca la seconda azione che è quella amministrativa. Dammi un assessore ai lavori pubblici e risolvi la questione all'interno di questo ufficio. Questa questione raccontiamola fuori per quello che è, più che una diatriba tra i due soggetti. A me, per quello che è a mia conoscenza e parliamo dal 10 maggio a oggi, non è affatto una... Quindi il consigliere del Foristudemo chiede trasparenza e chiarezza su questa vicenda abbastanza delicata. Sì, e soprattutto che quanto prima venga abbandonato il ruolo di sindaco da Franco Tammone perché è chiaro che la matrice, la causa di tutto è la sua impreparazione. Diciamo che la richiesta di consiglio comunale sottoscritta da una buona parte dei colleghi dell'opposizione, verte a fare chiarezza proprio su questo punto. La politica naturalmente non si può sostituire al ruolo che avrà la Procura e invece compito della politica qualora si rilevasse una condizione di convivenza con un certo modo di operare nella gestione del patrimonio economico pubblico e compito della politica prendere determinate posizioni. Nel momento in cui, lo ripeto, si rileva una connivenza con una determinata gestione che la magistratura avrà modo di chiarire per la parte giuridica. Il nostro compito è quello di trarre delle valutazioni. Io preferirei che le valutazioni le traesse ancora prima di questo consiglio comunale il sindaco che è fin dal primo momento stato informato di tutte le vicende che hanno portato ora alla diffusione pubblica di atti che fanno chiarezza su alcune procedure. Quindi immagino che neanche lei sarà d'accordo sulle motivazioni delle dimissioni dell'assessore Locastro, insomma motivazioni personali. Mi sembra che a questo punto è saltato un movimento che si chiama Megafono, che non esiste più. Sta per saltare una maggioranza su una mina vagante che è quella di un posto libero nei lavori pubblici. Credo che da opposizione c'è da riflettere. La maggioranza ha in questo momento la possibilità di salvarsi da un giudizio collettivo che non è di certo positivo, ma che su questioni morali si è sempre messo in una condizione ben precisa. Si faccia tutto quello che si vuole nelle difficoltà che la politica può avere, ma quantomeno rimangano gli uomini a fare delle valutazioni morali. La maggioranza sotto questo punto di vista ha la possibilità di salvarsi da un giudizio, ancor prima che politico, morale. Dinanzi a fatti del genere occorre prendere delle posizioni che non possono essere solo della Giunta, ma anche di chi sostiene la Giunta che automaticamente, se non prende le posizioni, mette la maggioranza in una condizione di sostegno ad un malaffare diffuso. Mi hanno fornito in questo momento documenti che stasera leggerò, domani leggerò con attenzione. Nel prossimo Consiglio Comunale a questa domanda risponderò più dettagliatamente perché sarò nelle condizioni di avere cognizione almeno se non al 100%, ma a buona parte. In ogni caso se l'amministrazione ha deciso di trasmettere gli atti qualcosa ci sarà? Certo, non è specialmente tan buono che un avvocato ne capisce più di meno su questo argomento, pertanto la sua sensibilità è molto superiore alla mia per capire se è opportuno o meno agire in quel modo. Come giudica questa decisione del megafono di sciogliersi e di riproporsi come sinistra? Io ho sempre definito il megafono, a meno a scordia, una corrente all'interno del PD, l'ho detto in momenti diversi e più autonome di quella che oggi è la loro scelta. Per me il megafono è stato sempre una corrente all'interno del PD che strategicamente hanno avuto la convenienza di identificarsi in quel modo, hanno ottenuto la presidenza del Consiglio, hanno ottenuto due assessori e continuo su queste dati che io rispetto, non si deve interpretare come un fatto polemico, è un fatto storico, concreto, di fatto. Potevano anche dire se siamo giuventini di sinistra, per me va lo stesso, perché poi vorrei capire che cavolo significa per loro sinistra, perché se sinistra aveva un significato serio avrebbero sottoscritto. Cioè credo che un atto di sinistra sia stato fatto o no? Sì, hanno abbattuto l'amministrazione comunale, più sinistra di così. Un'altra domanda e la lascio sul lavoro di consigliere, crede che un nuovo assessore risolverà i problemi di questa giunta? No, assolutamente, i problemi della giunta non sono le dietribe che possono accadere in ufficio, che ci sono state, ci saranno, ci sono e ci saranno sempre, il problema è che poi la politica li dovrebbe risolvere. Io credo che è stato già manifestato in diverse votazioni la mancanza di un numero fermo, convinto di sostenere l'operato dell'amministrazione. Nel momento in cui non c'è una maggioranza in consiglio comunale si dovrebbe prendere atto della conclusione con cui il Presidente del Consiglio è chiusa la seduta del consiglio comunale della mozione sfiducia dove disse che se perdura questa presenza in questo modo che non c'è una maggioranza in consiglio comunale bisogna trarre le dovute conseguenze. A proposito di questo, la dimissione di un sindaco in questo momento sarebbe un atto di coraggio, un atto di resa o una soluzione logica? No, sarebbe un atto di resa perché il sindaco prima di dimettersi e alzare battiera bianca deve verificare se all'interno del consiglio comunale ci sono delle forze disponibili a individuare due o tre problemi cantierabili e dare una soluzione e dopodiché prendere atto se c'è questa possibilità o meno. Secondo me c'è perché ci sono soggetti politici disponibili, non mi riferisco a me, mi riferisco ad Aristodemo, a Rizzo e a altri soggetti. Quindi è ancora più a sinistra? Sì, è ancora più a sinistra perché in un momento straordinario come quello che vive l'attuale situazione a Scordiense merita un provvedimento straordinario, non si può andare indietro all'intenità di fine mese tanto per campicchiare.